Ragazzi stiamo andando a Bologna con Nicola Gullotto, l'avete già conosciuto in un vecchio video e qui praticamente stiamo parlando di tutto, stiamo parlando di mistico, religione, fortuna, bitcoin, musica anche un po' di musica, musica sicuramente il problema è che non abbiamo minimamente parlato di quello che stiamo andando a fare, la scaletta e tutte le mie cose Sarà una jam tipo mi hanno detto che c'era un pezzo da preparare che io assolutamente ho, mi sono dimenticato e poi l'improvviso, improvvisiamo e niente quindi ci vediamo poi dopo e Nicola è sempre un pilastro fondamentale per la vita un po' da ristrutturare però quindi dopo mi appiccico un po' a lui che mi insegnerà questa canzone perché sennò poi ci sarà chi mi sculaccia tipo Riccardo? Ok un viaggio continua e divertiamoci ciao ciao raga dai una piccola sosta dai ma è pieno di puma eh oggi vanno tutti in giro vanno tutti in giro però la gente deve spendere dopo la pandemia hai capito? alchemica allora mi hanno detto durante il viaggio mettetemi qua perché c'è un po' troppa luce mi hanno detto durante il viaggio che oggi bisogna preparare the fine ground così dicono sì eh io non l'ho imparato eh ho capito però io te l'ho detto di fare i compiti cioè se mi devi qua le interrogazioni vanno fatte mi sono dimenticato Barbara eh almeno la giustificazione dovresti fare non lo sia non hai studiato? verrai vabbè adesso ripacco eh bisogna che ripassi ciao dopo accordiamo la Red Special che non tocco da qualche giorno intanto sta arrivando l'orchestra maestro alle Terrinoni poesia bravo sei emozionato? emozionatissimo ok oggi facciamo un po' di prove il blog di Frank è la cosa più emozionante vado a rompere i coglioni a tutti io sarà sempre peggio Mario Manfredini eh sì il metallaro sì metallaro alla batteria come picchia lui ancora qui che monta il lavoro dei batteristi è sempre quello più palloso sì sì veramente però lo fa con passione sì ma se lo sapevo prima adesso avrei se lo avessi sa molto prima avrai scelto un carina di putri o non so una roba semplice semplice eh però che soddisfazione picchiare soprattutto questi piccoli sì anche sì è una una lezione di di terapia c'è uno sfogo proprio liberatorio vabbè dei problemi tutti mettono la batteria e picchi e picchi e i problemi vanno ieri ciao 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 bravo bravo un applauso grazie a tutti grazie a barbara 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 numero uno abbiamo finito le prove stiamo tornando a casa si torna a piovere si torna si torna qua piove fa freddo ci ha messo il maglioncino perché fa freddino e niente viva i queen viva tutto ciao alla prossima